17 agosto 1974. Muore a Roma a 89 anni Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Giurlani. Durante la propria vita artistica, Palazzeschi si accosta a diversi movimenti letterari, dal crepuscolarismo al futurismo, dal vocianesimo al neorealismo. Nel 1911 Palazzeschi inizia la sua opera di narratore con il codice di Perelà, che conferma la sua vocazione al divertimento e al gioco fantastico. Tre opere rappresentano al meglio il lavoro di Palazzeschi, Stampe dell'Ottocento, Le sorelle Materassi e Le novelle.